Giungo a Samarkand alle 10 di sera con questa luce incredibile Arrivo a Registan, Samarkand alle 10 di sera e quindi in Uzbekistan Con 50 grani il tè di benvenuto all'hotel E' be' Luca, bollente I tazzi collettivi sono una vera logna Stade ferrite, mi state, perché siamo a casa Penso in scena di sbava Lascio, Samarkand, lascio, ci sono a casa Le montagne dure, le montagne dure Sono al passo, sono al passo Si accrescia a base Le montagne dure, le montagne dure, le montagne dure Le montagne dure, le montagne dure E' un complesso di cazza e di anima E' stupenda questa moschea, stupenda E' tutto distrutto per il resto, tutto distrutto Un altro bellissimo sito Un altro bellissimo sito Spettacolo ragazzi I tombini aperti, i tombini aperti Le bellissime fontanee Il mauto Leo di Rukobodi Ah, che beppetto Il mio ritorno a Samarkand in grande stile Le mie spalle il mauto Leo di Kura Vila Il mio ritorno a Samarkand Ma' un giro lì E' un po' di tutti Il mio ritorno a Samarkand E' un po' di tutti Molto ventoso, il suo nome è la migressa, scede il genio di fuoco, è stato il finello, è stato il sabio. Adesso, interno, interno della madressa di Lacari, tutta dorata. Madre, mamma mia, che becco col tuo occhio sulla madressa, interno. Disegni ragazze. Lavori di ristrutturazione, di bestia, il museo stradale all'alte e il palco di essenza. Il fantastico viale alberato, pedonale. Questa è una fantastica moschera di Mirika. Questa è una fantastica moschera di Mirika. Questa è una fantastica moschera di Mirika. Mirika, Samarkand, Uzbekistan. Il masoleo di Mirika. Un bellissimo bazar. L'onda di turisti europei. Il cimitero Charlie Zwinda. Moschera di Haddakhir. Una marea di tombe. Le tombe più belle. E poi ancora altre tombe, bellissime. Spettacolo ragazzi, queste tombe. Stupendo il viale delle tombe, è veramente eccezionale. Il viale delle tombe di Samarkand è una cosa incredibile. Bellissima moschea, fantastico questo volo, è fantastico. Il paesaggio verso il Tajikistan, in Tajikistan a un passo dall'Afghanistan. Grazie. Grazie. Grazie.